Allora, intanto un saluto, un grande saluto a tutto Juventus Official Fan Club di Modica. Ragazzi, ci vediamo quindi sabato, sabato 3 febbraio, sono lì, non vedo l'ora e quindi niente. Ci vediamo tra pochissimo, la presentazione lo sapete, è del libro quello con Freud in copertina, con la maglia bianconera perché dobbiamo un po' divertirci a psicanalizzare chi abbiamo intorno e l'ossessione degli italiani che è la Juventus. A sabato!